Lancia il tuo cuore davanti a te e corri a raggiungerlo. Quando c'è una meta, anche il deserto diventa strada. Un noto proverbio arabo e proseguiamo con un falò tra le dune, perché forse questo è il percorso che si vuole raggiungere e si può raggiungere. Ne parliamo con le autrici di questo nuovo libro che sarà presentato domani alla Fondazione Karishiv. Sono Marina Marucci e Anna Grazia Mastrofilippo. Intanto perché questa scelta è dello Stato dello Yemen, perché è qui che si fa riferimento con il libro. Allora abbiamo scelto lo Stato dello Yemen perché Pierpaolo Pasolini ne ha scritto molto di questo paese e soprattutto ha girato alcune parti dei suoi due film più importanti, Il Decameron e Il Fiore delle Mille e Una Notte. Inoltre lui ha girato anche nel 1970, il periodo in cui noi abbiamo ambientato il nostro libro, il documentario che riguarda le mura di Sanaa e l'ha portato all'UNESCO per farlo diventare appunto la capitale e patrimonio dell'umanità. Ma oltre questo motivo che ci ha fatto approfondire e leggere e studiare gli scritti di Pasolini, c'è anche un altro motivo importante, dal 2015 lo Yemen è in guerra, dove si battagliano due fazioni, una parte saudita e una parte iraniana. A questo punto c'è diventata una catastrofe umanitaria, nel senso che ci sono 10 milioni di persone a rischio fame, 400 mila bambini e di questi 80 mila stanno morendo di fame e di sete. Oggi proprio sul Messaggero c'è un articolo che riguarda proprio questa catastrofe umanitaria, focalizzando quello che noi abbiamo anche scritto e analizzato nel nostro libro, le spose e bambine, che oggi addirittura in questo stato di guerra vengono vendute per mangiare, per riuscire a sopravvivere in questa situazione. Allora abbiamo deciso di scrivere, di far rendere, diciamo, le donne soprattutto coscienti di questo problema, ma soprattutto spingendole e cercando di farla, tirar fuori la loro parte guerriera, come lo erano le guerriere iemenite, e soprattutto far tirar fuori a loro i loro talenti, che noi crediamo che siano molti tra le donne, che molto spesso vengono dimenticati. Se l'abbiamo fatto noi due, credo che possano farle anche qualsiasi donna. E allora un appello di fatto diventa questo attraverso questa testimonianza, un fallo tra le dune è qualcosa davvero che si può vedere in fondo. Allora domani intanto questa iniziativa parlarne ancora. In particolar modo io volevo sottolineare la parte innovativa, però sul piano proprio tecnico-narrativo, perché è una novità lo scrivere a quattro mani. È una novità che è anche un percorso intrapreso dal nostro laboratorio di scrittura creativa, che adesso è alla Biblioteca Comunale, per scrivere non solo a quattro mani, ma a più mani proprio. Adesso nel nostro percorso ci sono addirittura nove signore che scrivono, e scriviamo tutte insieme. La cosa è molto bella perché ci arricchisce chiaramente come idee, come scambio culturale, perché siamo diverse per tutto, per età, per vissuto, per tutto, quindi ci arricchisce. E dall'altro lato impariamo che scrivere insieme non vuol dire sovrapporsi, ma completarsi. Le associazioni che hanno promosso la presentazione del libro, che sono Incontri Culturali e la Consulta delle Donne di Civita Vecchia, riceveranno dalla vendita del libro una parte appunto del ricavato. E noi le ringraziamo anche per questo. Grazie.